. Bentornati a tutti. Oggi è mercoledì, 22 novembre, 2023. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Vergine. Meglio lasciarvi a cuocere nel vostro brodo. Tutti contro di voi, poveri cuccioloni, Mercurio in quadratura e la Luna all'opposizione, con i suoi due guardiani, Saturno e Nettuno, ciascuno su un lato, ecco perché oggi siete così stonati, taciturni quando sarebbe opportuno parlare, lo quaci quando invece converrebbe tacere. Con il partner, poi, il dialogo è quasi inesistente, ciascuno perso dietro al proprio sogno, ma su binari divergenti. Per questo il malinteso regna sovrano, a quando non c'è volontà di capirsi ogni parola può essere interpretata nel modo sbagliato. Regina della giornata la Dea Pigrizia, un vero controsenso instacano visti del vostro calibro. Qui i casi sono due, o avete un raffreddore in cova, oppure state metabolizzando una delusione professionale, che stentate ancora a digerire. Quanto pesano sullo stomaco le ingiustizie. Un uomo discretamente severo e autoritario, che ha superato sicuramente i 40 anni. Un messaggero di pericoli, ostacoli, difficoltà, un uomo abituato al comando, che veste una divisa, come un poliziotto, un avvocato, un ufficiale giudiziario che viene a voi con cattive notizie. Molte maldicenze e calugne in giro sul vostro conto. I contrasti che avete avuto nei giorni scorsi saranno appianati e trovere nuove forze e nuove energie per ricostruire alcuni rapporti con persone che vi stanno a cuore. Se avete in mente di riconquistare la stima e la fiducia della persona che vi sta a cuore, ecco, oggi è il giorno buono per tentare di farlo. Un'importante amicizia che a tratti sembrava compromessa da alcune incomprensioni, potrebbe rinascere e fare felici entrambi. Non avete altro da fare che parlarne per prima con la persona interessata. Giornata movimentata. Avrai molte cose da fare. Notizie telefonate. Sarai pieno di energia. Armonia in amore. Importanti l'arte e a musica. Lasciate fuori dal vostro cuore i problemi familiari, ci sono incomprensioni con i vostri cari e parenti, ma se non saprete sapientemente dosare parole e gesti potreste riceverne un danno. Oggi le persone noioso che vi circondano sembrano aumentare a dismisura, chiacchiericci e polemiche sterili faranno della vostra prima metà di giornata un vero e piccolo calvario. Meglio il pomeriggio in cui finalmente vi libererete di persone noiose e pettegole. L'amore e i bambini ti daranno soddisfazioni. Una lieta sorpresa in serata se sei nato di giovedì. Attenzione agli scandali. Cerca di rilasarti e dedicati a una lettura o ad ascoltare musica. Mercurio e luna daranno qualche problema ai rapporti con gli altri, in particolare colleghi di ufficio o soci in affari. Sarà meglio rinviare ogni forma di chiarimento. Aspettate una notizia che potrebbe cambiare le cose. Portate pazienza e non innervositevi inutilmente. Nella giornata di oggi potrebbero insorgere dei seri motivi che vi faranno cambiare idea su un paio di spese che avreste dovuto o voluto a breve affrontare. Cercate solo di evitare di prestare denaro, in questo caso non sareste buoni ma fessi. Sforzativi di essere gradevoli, anche con quanti non sopportate troppo. In arrivo piccole nubi in amore. Il pianeta governatore Mercurio si trova in angolatura dissonante per la Vergine e dal segno nemico amatissimo del Sagittario. E così la configurazione dei transiti manifesta qualche nube passeggera sul vostro cielo, ma niente di preoccupante. Immaginate un po' come ci si sente con l'astro guida Mercurio in Sagittario in quadratura e la luna opposta nel segno acquatico dei pesci. Rispetto al vostro modo di essere e di pensare gli altri vi sembrano vivere letteralmente su un altro pianeta, con pensieri, ritmi, tempi diversi dai vostri. Stonati ovunque, in casa, da soli, in compagnia. Amore ed eros. Casa e famiglia in pole position, il sentimento domina la giornata, ma l'umore è tutt'altro che sereno, dubbi e sospetti sulla fedeltà del partner vi trasformano in un novello Sherlock Holmes con l'occhio puntato su ogni mossa per coglierlo con le dita nella marmellata. La vostra dolce metà vi chiederà più impegno e un maggiore slancio da un punto di vista emozionale. Il pianeta dell'Eros, Marte, è sorridente nel segno dello Scorpione, portandovi note di romanticismo e compenetrazione emotiva, specie se avete da poco cominciato una relazione di coppia. Sappiate dare prova di quanto valete e non vi trincerate dietro la solita timidezza, che è soltanto insicurezza e in certi casi si rivela solo come un comodo alibi per non amare. Tutto questo più con maggiore incidenza se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 17 al 22 del mese di settembre. Lavoro e denaro? Paradossale, il lavoro è sempre stato il vostro punto di forza, ma oggi sia in senso fisico sia mentale perdete facilmente la bussola. Eppure è già mercoledì, dovreste esservi rimessi in pista invece distratti da altri pensieri e, stranamente per il vostro carattere pragmatico, anche da qualche fantasia, vi perdete nel classico bicchiere d'acqua, con consegna in ritardo sotto l'occhio stupito del vostro capo. Luna e Mercurio vi mostrano una strada che nel luogo dove lavorate, oggi si presenta in salita. Tenete vigorosamente botta e arrivate alla chiusura serale con la soddisfazione di aver superato bene ogni prova. Benessere. Sistema respiratorio sotto pressione, ma tra tosse e raffreddore non vi va giù nemmeno la minestrina. Tutto di guadagnato per la linea, che allo specchio appare un po' appesantita. Denaro? Siete un segno parsimonioso e oculatissimo, come vuole la simbologia della Terra, l'elemento zodiacale cui voi appartenete. Non sempre però siete così tirati o tirchi come spesso i sacri testi d'astrologia vi dipingono. Non di rado infatti tendete a mostrare il vostro carattere prodigo, generosissimo e, in maniera mirata, per le cose belle che vi entusiasmano, potete trasformarvi anche dunque in un segno discretamente sperperatore. Per lei, saranno le vostre antenne o le voci degli amici, sta di fatto che di lui non riuscite a fidarvi fino in fondo, indagate. Per lui, compagna noiosa e brontolona e lei afferma lo stesso di voi. Risultato, ciascuno a bollire nel proprio brodo. Ma in pentole separate. Colore delle emozioni, viola scuro. Barometro dell'umore, piovoso. Pagellina del giorno. Sentimenti, 4, attività, 5, finanze, 9, benessere, 6. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.